Procederà anche a una revisione delle rendite catastali, adeguandole a quelle che sono le rendite di mercato. Ma per far questo, a parte che ci vogliono cinque anni, l'impegno che il Governo prende oggi è che nessuno pagherà di più o di meno. Cioè le rendite su cui si basa la tassazione oggi restano invariate. Quindi è un'operazione fondamentalmente di trasparenza, un'operazione che ha un contenuto statistico molto importante, informativo molto importante, ma non cambia assolutamente l'imposizione patrimoniale, l'imposizione fiscale sulle case e sui terreni. Questo è molto importante dirlo perché nei giorni scorsi si è teso un pochino a confondere le due cose. Sono due decisioni completamente diverse. La prima è costruire una base di informazione adeguata. e la seconda è decidere di cambiare le tasse. Noi la seconda non l'abbiamo fatta, non l'abbiamo presa la seconda decisione. Quindi noi attualmente stiamo facendo solo la prima e ci vorranno cinque anni. Quindi nella legge delega è esplicitamente previsto che queste rendite, l'accertamento avverrà in questo periodo e soltanto nel 2026 se ne riparlerà. Non credo che il risultato delle elezioni abbia in qualche modo indebolito il Governo, però non so nemmeno se l'ha rafforzato. Cioè è molto complicato. So che oggi ci sono tanti articoli sui giornali che dicono che il Governo esce vincitore da questa tornata elettorale, ma non mi, diciamo che devo capirne bene la logica di questo. Allo stesso tempo non mi pare sia stato indebolito. Quanto alla non presenza dei ministri della Lega alla riunione del Consiglio dei Ministri, ce lo spiegherà l'On. Salvini oggi o domani, ma gli scambi che sono avvenuti prima nei giorni passati in cabina di regia, in varie conversazioni eccetera, avevano dato informazione sufficiente a valutare il contenuto di questa legge delega che, come ho detto, è molto generale. Quindi non è che si prendono poi impegni che poi diventa difficile mantenere, oppure si fanno promesse, è una scatola, come dico, che si ispira a certi principi che ritengo siano condivisi ampiamente anche dalla Lega. Grazie. Grazie.